Far Breton Questa è una torta francese che ho assaggiato per la prima volta nel 2011 a Firenze, in un piccolo locale vicino all'università. In quell'occasione, siccome rimase molto colpita da questa torta, chiesi la ricetta alla proprietaria del locale, la quale però mi disse, guarda, te la posso anche dare, però tanto non ti verrà mai buona come la mia. Va bene, salutai e non ci tornai più, ovviamente, però continuai a pensare a quella torta perché mi aveva veramente colpito. Nel 2013 chiesi la ricetta ad Alba, che è la cucina di mia mamma, che vive in Francia. Però non era ancora pronta per realizzarla, per provare a farla. Ci sono voluti altri 5 anni, quindi 2018, e finalmente l'ho fatta. Il risultato è ottimo, è un dolce un po' particolare, io non avevo mai assaggiato niente di simile. Si avvicina forse a un flan come tipologia, però è veramente qualcosa che dovete provare e mi saprete dire. Se vi piace la ricetta lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video. Vi aspetto su Instagram, che aggiorno tutti i giorni, se non tutte le ore, ci stiamo avvicinando. E naturalmente su Facebook e sul blog dove trovate le ricette scritte passo passo, quindi con ingredienti e procedimento. In ogni caso tutti i link sono giù nell'info box. Un bacione e alla prossima! Per prima cosa fatti un tè, o meglio, fallo alle prugne. Quindi prepara un bel tè nero, un bel tè air grey, quindi al bergamotto. Aggiungi il rum e infine le prugne. Lasciala a bagno almeno due ore, ma più tempo rimangono a bagno in questa infusione, meglio è. Estrai i semi dalla bacca della vaniglia. Metti il latte in un pentolino, aggiungi i semi della vaniglia e la sua bacca. Porta bollore e poi spegni e lascia freddare. In un'ampia ciotola metti lo zucchero insieme alle uova e sbattile con le fruste e un pizzico di sale fino a farne una bella schiuma. Unisci la farina setacciata e continua a sbattere per non avere i grumi. Ma come vedi è meglio utilizzare una ciotola dai bordi piuttosto alti. Aggiungi anche il burro fuso e il latte a filo, avendo cura di sbattere sempre con la frusta appunto per disciogliere tutti gli eventuali grumi. Imburra molto bene una teglia di ceramica oppure di vetro e cospargila con dello zucchero semolato. Distribuisci le prugne ben scolate sulla base e poi versaci sopra il composto, che sarà molto molto liquido. Se ti sono avanzate delle prugne che non riuscivi a mettere sulla base, distribuiscile adesso. In forna a 200 gradi per i primi 10 minuti, finché non si sarà formata una bella crosticina dorata. Poi abbassa il forno a 170 gradi e lascia per altri 45 minuti circa. La torta va servita tiepida, tagliata a quadrotti e cospassa con un po' di zucchero a velo. La torta va servita, tagliata a quadrotti e cospassa con un po' di zucchero a velo.